E anche il 2019 è arrivato, un nuovo anno, nuovi sogni, nuove speranze, una nuova agenda. Quest'anno ho deciso di creare la mia agenda, l'ho scelta con cura tra le tante opzioni. E infine ho iniziato a scrivere i mesi, chissà cosa mi porteranno, chissà cosa succederà. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Ciao ragazzi, questa qui è la mia agenda del 2019, è molto carina perché ha le pagine bianche come potete vedere. È fucsia, anche se io l'avrei voluta rossa, quando l'ho comprata pensavo fosse rossa. Cioè dentro al negozio quelle luci mi sembrava rossa, adesso guardandola meglio è fucsia, però va bene lo stesso. Vi farò vedere di mese in mese se volete come la decoro. Per renderla più bella, tipo si possono prendere dei colori particolari con delle tonalità che siano comunque, che abbiano un senso tra loro. Adesso vi mostro come imposterò al mese di febbraio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi saluto e spero che la vostra agenda del 2019 sia piena di esperienze arricchenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!